Torna sabato 15 settembre sulle colline di Gimarra la Corrifano, gara podistica amatoriale giunta alla 23esima edizione ed organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Pesaro Urbino. Un evento che chiude il ricco programma estivo di manifestazioni dell'ente e che anche quest'anno, oltre che al fisico, farà bene al cuore, in quanto l'incasso sarà devoluto alla mensa di San Paterniano. L'evento punta a superare la quota di 400 partecipanti del 2017, complici le tante categorie previste, addirittura 15, che faranno della giornata una vera e propria festa dello sport. Il ritrovo per i ragazzi è previsto dalle 15 con partenza alle 16 e per gli adulti dalle 16 con partenza alle 17 in via Ciena a Gimarra, nei pressi della pista polivalente davanti al campo sportivo. Le iscrizioni sono previste sul posto fino a 10 minuti dalla partenza, 5 euro la quota di partecipazione per gli adulti, mentre tutti gli under 18 potranno gareggiare gratuitamente. Durante il percorso, che nella sua interezza sarà di 8,4 chilometri, sono previsti punti di ristoro, assistenza medica con il servizio ambulanza, servizio d'ordine e la doccia disponibile nell'orario 18-19. La gara è aperta a tutti, tesserati e non, e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per info www.csi-fano.it, pagina Facebook Csi Fano oppure 338 75 25 391. E attraverso questi contatti è possibile inoltre anche avere tutte le informazioni per le imminenti attività del centro sportivo, che a breve tornerà protagonista con il campionato di pallavolo a squadre miste, quelli di calcio a 8 e calcio a 5 maschile e grande novità della stagione 2018-2019, il campionato di calcio a 5 provinciale femminile.